signori quando i mondi si scontrano fin del 1951 di fantascienza è un classicone penso che don look up lì l'ultimo di leonardo di caprio abbia succhiato qualche idea da qua ecco non è completamente uguale anzi ci sono tante cose diverse però l'idea più o meno è quella se vi piace la fantascienza è da vedere non si può dire però è un 6 e mezzo non aspettatevi troppo vi lascio il solito link comunque fuori a 9 euro mi sembra una roba del genere usato e basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale e se volete lasciate un like ciao ciao